Sullo stretto per legalizzare l'arrivante? L'idea potrebbe essere fare un ponte di canapa che anche dal punto di vista della sostenibilità anche sismica forse può funzionare, ecco potrebbe essere un'idea secondo me al Fano potrebbe raccoglierla. Però un giovanardi non ce l'avete insomma qui alla Camera almeno? No però se guardi non faccio nomi perché me ne vengono tanti, come giovanardi non ce ne sono ma ce ne sono tanti altri che cercano di replicarne le gesta.